Ciao ragazzi, benvenuti al terzo episodio della carriera cooperativa con il mio compare Danny Quasar, oggi ci cimenteremo nel Gran Premio d'Australia Melbourne, obiettivo annunciato, l'obiettivo della vigilia è assolutamente un podio, dopo le prime due gare alquanto sfortunate dove abbiamo ricimolato meno punti rispetto alle aspettative, oggi dobbiamo assolutamente capitalizzare, concretizzare ogni occasione che ci si presenta davanti. Ciao compare, ci sei? Sì, ciao compare, ci sono. Perfetto, allora facciamo un po' di spesa con i punti ricerca e sviluppo e andiamo alle prove libere. Allora, abbiamo fatto le prove libere, facciamo sempre un po' di fatica a svolgere i programmi, però abbiamo concluso entrambi nella top 10, quindi comunque ci sono buone prospettive per le qualifiche, adesso vediamo di fare un buon piazzamento così in modo tale da poter partire e agevolarti per la gara, ecco. Minchia! Il gel ice? Quasi, però sarà l'ultimo. Bruttissima qualifica, brutta brutta, è ultimo, ultimo ultimo, mi aspetta una gara durissima, durissima, durissima e rimonta, ho sbagliato la chicane, non doveva andare così. Forza compare, mi raccomando. Allora, siamo in quinta posizione, peccato per l'errore di mio compare, che parte dall'ultima posizione, però lui è bravo e recupererà. Ce la metteremo tutta, recupereremo. Forza, forza, forza! Dai, forza compare, dai, si parte! Dai! La partezza veramente brutta, con le gomme medie è difficile trovare grip. Ho raggiunto una posizione, come restituisci il suo spasso? Iniziamo! Ma l'ho superato onestamente, sinceramente. L'ho superato, io l'ho superato onestamente. Ma non mi è sembrato, ho perso praticamente una posizione dal via. Vabbè. Benissimo. Ci fa botta a questo quinto? Aveva avuto una botta a questo da culo. Si è dopata la macchina. Voi in fila, l'ho staccata! E si ripende dalla quinta posizione. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Cerca di avanzare. Rimani concentrato. Allora, non perdiamoci su Noda. Ah! Frenata brutta, però... Siamo ancora a lì. Noi siamo ancora ultimi perché giustamente Album ci ha mezzogirato. Anche le medie fanno, compa. Si, si, però comunque ne avevo superati già due alla prima curva. Ah, ho capito. Hai tempo per recuperare, compa? Si, 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 sta recuperando, infatti. Tra poco dovremmo entrare in quella fase in cui le gomme soft calano. Si, io un poco, leggermente lo sto avvertendo. Leggermente. E dovremmo avere la meglio? Con le gomme medie? Si, si, con un po'. Le soft non ci siamo più. Non mi gira più la macchina. L'ho sopprato poi l'onore e sto chiesando da lungo. Abbiamo l'avvertimento di taglio curva. Di nuovo? No, non vanno più. Botta se mi sport... No, mi stanno... Non è possibile. E si è diventata una gara del tuo sconto. Sono finito a 9, nono, figurati. Incredibile. Ogni macchina che mi vuole soppassare mi sportello ovviamente per due tempo. Incredibile. Ero là, sul podio quasi. A lottare sul podio. Incredibile, incredibile. Siamo in coda al gruppone ancora. Adesso siamo quasi negli scarichi di Shumi. Zona punti è ancora ampiamente possibile. Sono tutti lì. Tutta a ricostruire la gara per me. Grande uscita dalla Cican. Shumacher e Guanyu già lottano tra di loro davanti a me. E noi superiamo Shumi. Non del tutto ancora. Condizione delle gomme è buona. Ma se sto pattinando sul ghiaccio. Grande uscita su Guanyu già. E siamo quasi diciottesimi. Sì. Brivido. Devo anticipare la frenata perché si scivo. Sì. A questo giro entro io. Ok. Mi sono distratto. Che è successo? Questo è un murale. Ah. Mi sono distratto. Non stavo guardando più la strada. Ok. Abbiamo un bel gruppettino di macchine davanti. Non è tutto il dirresto però. Però la maggior parte dovrebbe rientrare a questo giro. Quindi noi dovremmo avere strada libera per fare ritmo. Si stanno entrando tutti qua davanti. I compari ti confermo. Ok. Il mio compari è rientrato. Rientrano Stroll e Albon. Il stop è perfetto. Due e tre. Ok. Entriamo dietro Hamilton. E noi lo superiamo in curva. Allora in curva tre. Grande compara recupera. Ti faccio anche da tappo così. Magari puoi recuperare. Sì. E per il problema c'è la gomme fredda al momento. E non posso spingere tanto. Ah, devo alzare il fredda. Attenzione, attenzione Hamilton. Problemi, problemi, problemi per Hamilton. Dai, è buono. Abbiamo anche il DRS. Possiamo spingere. Siamo... Abbiamo strada libera. Possiamo spingere ancora tanto. C'è chi ha messo le hard addirittura. Pazzi. Come il Russell e il Tsunoda. E noi infatti allunghiamo su di loro. Nonostante le mete usate. Noi dovremmo rientrare al prossimo giro. Non in questo, ma al nono. E poi se giri la qualifica. Esatto. Sprint è velocissimo. Sprint è velocissimo. Dai, DRS su Alonso. Alla staccata, alla mia curva. Sì, Alonso va a lungo. Fumata alle gomme. E mi infilo all'interno. L'unico su cui non riuscivo a recuperare Verstappen. Che vola come il vento. Compa, indovina che posizione sono? Non lo so. Sesto? No. Solitamente che posizione faccio? Ottavo. Sì, però spero di finire più avanti. Ah, sicuro? Io devo fermarmi. Sono secondo. Mi fermo alla fine di questo giro. Adesso perdiamo un po' su Russell. Da che siamo tutti lì? Sicuramente noi rientreremo molto indietro, intorno alla, credo, quattordicesima, tredicesima posizione. Vediamo un po'. Dai, zona punti è ancora fattibile, compa. Macchina scarica. Anche la mia. Attenzione sportella, ma Hamilton e Tsunoda. Io ne approfitto per avvicinarmi. Ah, scontro con Norris. E lo superiamo. Sotto regolare. E vendiamo la settima posizione all'inseguimento di Tsunoda. Dobbiamo anche dipenderci da Norris per adesso. Ah. Fai attenzione alle gomme adesso. Eh, c'è Norris attaccato al culo, però. Infatti mi supera su Rettirini. Sportellata gomma a gomma. Rientriamo quindicesimi. Dobbiamo davanti i fette, Leoconna. Con le soft ce la fai, compa. Sì, sì, sì. Ah, avevo dimenticato che è stato attivo. Porca puttana. Allora, su Rettirini ho la macchina a scarica. Dai, il DRS. Però siamo lontano. Grande uscita dopo la chicane. All'esterno. All'esterno. Sul passo completato. Grande. Siamo già negli scarichi di Esteban Ocon. All'esterno. Grazie a tutti Dai grazie a tutti Ce l'abbiamo Con il DRS Sfruttiamo la scia E lo stacchiamo Alla solita curva Ci portiamo avanti Quinta posizione Abbiamo il DRS Ci riprova Ma lo infiliamo Di nuovo All'incrocio di traiettoria Sarà un passo completato Abbiamo la zona puntina avanti Adesso lui c'ha DRS Io no La roccia a large Quindi Lo dobbiamo tenere dietro Odio difficile Ma non è impossibile Perché il DRS Ha la dura Terza posizione Alla prossima Alla prossima Concentrazione Sì, anche un punto Compra fino a stagione La stagione è lunga e conta tutto Ricordati Massa Hamilton Esatto, nel 2008 Ricordati Alonso Schumacher Eh sì Ma anche Alonso Settel Cominciano a cedere anche le medie Ho faiato io o le medie stanno cedendo E a questo punto Penso che Dobbiamo difendere la quinta posizione Zona di RS con Magnussen E abbiamo davanti Ricciardo E poi penso Gasly Abbiamo carburante sufficiente Per altri tre giri Lascerci lo spazio per favore Penso che Russell e Hamilton Le sportellano E io mi avvicino Potentemente Ho con fuori dalla sessione Ma non è davanti a noi Peccato Ultimo giro Sembra che Hamilton e Russell Non fanno un patatrack Difficile Difficile Ci stanno sportellando però Mamma mia Quanto sto sudando Mamma mia Eh a me il boom Ho in mente una pazzia Vediamo se mi riesce Quando era gialla A un con sempre Attenzione Attenzione Super Max Verstappen Vince Noi tamponiamo un po' Ricciardo Finiamo undicesimi E noi terminiamo la gara Quinti Per come siamo partiti Peccato l'errore Ci è costato il podio Ci è costato il podio Questo errore Però Quinta posizione Comunque Una crescita Rispetto Al Gare precedente Bravo Bravo Comparate Bravo Mi sono arrivato undicesimo A meno di un secondo Da Tu hai l'abbonamento Per il pilotare il giorno Esatto Potrebbero dargli un punto Per il pilotare il giorno Una rimonta Purtroppo Condizionata Dal Testacode iniziale Perché Dal mezzo Testacode iniziale Perché saremmo potuti Arrivare più avanti Avevamo il ritmo Tutto il ritmo Magari non per vincere Ma sicuramente Dei punti pesanti E tutto comunque È figlio di una qualifica In cui appunto Ho fatto quell'erro raccio E L'ho pagata cara Però comunque È un gran passo Possiamo dire che La patch funziona Possiamo Ufficialmente dirlo Perché ho notato Un'enorme differenza Rispetto Alla Alla versione precedente Quindi Posso dire Che Ho fiducia Per le prossime gare Ma Basta non sbagliare Le qualifiche E già è tanto Anche perché Appunto Arrivo a sette secondi Dal mio compagno Verstappen Vola Cioè Veramente assurdo Quanto va E Insomma Dieci punti pesanti Per Per il mio compare Diciamo Più veloce di me Soltanto Per Verstappen Esatto Esatto Quindi Ottimo anche questo Ci lasciamo Ci lasciamo con Il duo Ferrari Che Si riavvicina Tra di loro in classifica Tra la sesta e la settima posizione E incredibilmente Yuki Tsunoda Scavalca Il sottoscritto E va a 22 punti Dobbiamo assolutamente recuperare In testa Cambia poco Perché Perez E Verstappen Guidano la classifica Piloti Con 70 E 62 punti Rispettivamente E poi Il duo Mercedes Con Russell Che supera Hamilton Classifica Dei costruttori Ferrari Sempre terza Sempre più lontana Dalla Red Bull E' solo il terzo Gran Premio Ma già dobbiamo fare Gli straordinari Per Per recuperare Bene Allora Possiamo chiuderla Qua E possiamo darvi L'appuntamento Al Gran Premio Dell'Emilia Romagna In quel di Imola Non vedo l'ora Onestamente Di Fare questo Gran Premio Dove Storicamente Insomma E' un Gran Premio Favorevole E Insomma Quindi Diciamo che Possiamo Sicuramente Ambire A qualcosa Di più Rispetto al risultato Odierno E sperando di fare Una qualifica Come si deve E senza Senza errori Allora Io saluto Il mio compare Dani Quasar Ciao Dani Quasar Ciao compare Ciao ragazzi Ciao compa Allora Ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Di Ciao Ciao